Per aver fatto parte delle maggiori orchestre di tango, come quelle di Hannibal Troilo, il già nominato Attilio Stampone, Osvaldo Fresedo e altri, nel 1954 Giuseppe Bragato, come ci stava già accennando, incontra Astor Piazzolla. Con lui ha inizio un sodalizio lungo una vita, che porta anche a una vera rivoluzione nella musica del tango. Ci parli, maestro, ci vuole regalare un episodio, un ricordo della vostra amicizia? Come ebbe inizio? Che tipo di relazione musicale e amicale c'era? In un amico ci hanno invitato a mangiare con lui. Eravamo lì, è venuto anche a Piazzolla, ha fatto la rivoluzione del tango con tutti i presenti. Era io, era Mario Franzini, era anche Attilio Stampone, ha detto, vamos a hacer un otetto. Ah, ecco, lui voleva costruire e creare un otetto, ed eravate già tutti lì. E abbiamo fatto la vera rivoluzione del tango con questo otetto. Proprio così, e così ha avuto inizio quasi per caso, insomma. Ma era un rapporto, ma discutevate, come era? Avete avuto motivi di... Ah beh, abbiamo discusso con tutto il mondo. Ed era anche un'amicizia, al di fuori, diciamo, dell'interesse. Abbiamo suonato con lui anche per piacere, non solo per una paga. Per il piacere di suonare insieme? Con lui, con lui. Senta, ma è vero che Piazzolla la chiamava il mio archivio vivente? Eh sì, l'archivio vivente. Joyce, io ho fatto l'archivio anche della società argentina. Eh, adesso ci arriviamo. Volevo solo terminare un po' il discorso di Piazzolla, perché quanti anni sono poi, alla fine, siete rimasti... Siamo, dal 50 e più, siamo stati amici. Allora, Bragato arrangiò infinite melodie, no, Fabian di Piazzolla? Le ha trasformate in partiture di due, di tre, così? Sì, ha arrangiato la musica anche per la sua formazione, proprio, per il quintetto, per il sestetto, per l'ultimo sestetto anche, no, quello che avete, con due bandognoni addirittura. Ma perché la figura dell'arrangiatore magari è meno nota del grande, no, Piazzolla, però poi chi arrangia realmente, come posso dire, mette del suo e aiuta alla diffusione, no, degli movimenti anche. Sì, senza altro. È così, Bragato? Sì, facevo questi arrangiamenti, li mandavo in Europa, li ho mandati anche a Roma, in Russia, senza bandognon, perché là non c'è un bandognon, e avevano pochi bandognoni in Europa, e allora suonavano gli arrangiamenti che io facevo. Gli arrangiamenti che lei faceva senza bandognon. Ecco, ma cosa significa quando si dice avanguardia del tango, no, lo chiedo un po' a tutti e due, cosa significa, come si può tradurre per chi non è… Bene, il tango, quando si suona avrà 60 battute, però un tango di persone ha 500 o 600 battute, no? Era un musicista completo, aveva studiato molto bene, e aveva studiato anche in Francia con la Boulanger. Ma quando si dice avanguardia, che cosa significa? L'avanguardia è sicuramente una specie di rinnovamento nel tango, che ogni sua scuola, diciamo, ogni suo gruppo o nome importante, che formava la propria orchestra, aveva una scuola e un suono particolare, perché come Leopoldo Federico, come Attilio Stampone… Bene, per lui, Piazzola era differente di tutti. E a quello voleva arrivare, oltre a tutti gli altri grandi, Piazzola ha rotto con quel tipo di sonorità, creando un nuovo camino. Ecco, allora maestri, sapete cosa facciamo? Ascoltiamo Vanguardista, che è un tango appunto di cui fosse Bragato e autore, suonato da lui e da lui. Grazie a tutti.